il dono di chanfa mei tanti e tanti anni fa nel sud della cina c'era un luogo vicino ad una grande montagna dove non c'era acqua e la gente doveva raccogliere l'acqua piovana e usarla con molta parsimonia quando non pioveva per lunghi periodi gli abitanti della regione dovevano andare a piedi molto molto lontano e attingere acqua trasportandola negli otri perciò da quelle parti l'acqua era considerata più preziosa dell'oro in un villaggio ai piedi di quel monte viveva una fanciulla dai lunghi capelli neri così lunghi che le toccavano i calcagni tutti la chiamavano chanfa mei cioè la fanciulla dai capelli lunghi viveva in una povera casa lei sola con la madre malata costretta a stare sempre a letto e allevava maiali per il sostentamento quotidiano ogni giorno si alzava all'alba per andare lontano a prendere l'acqua poi si recava sul monte a raccogliere erbe e radici per loro e per i maiali finiva di lavorare a sera tarda e all'alba era di nuovo in piedi un giorno andò sul monte come al solito col cesto per raccogliere erbe selvatiche giunta a mezza costa vide una grossa rapa proprio sotto una sporgenza di roccia che dava su uno strapiombo aveva foglie grandi e verdi questa servirà a fare un ricco piatto pensò la porterò a casa e la cucinerò subito la ferrò con entrambe le mani e tentò di strapparla dalla terra ci riuscì con fatica e dal grosso buco cominciò immediatamente a sgorgare un filo d'acqua limpida e fresca la ragazza rimase un attimo stupita e la rapa le sfuggì di mano e andò a ripiantarsi dove era prima tappando di nuovo il buco e fermando l'acqua cianfa mai aveva sete e voleva bere strappò di nuovo la rapa e accostò la bocca al filo d'acqua che aveva ripreso a sgorgare fini di bere e ancora una volta la rapa le sfuggì di mano per andare a tappare il buco e fermare lo scorrere dell'acqua la fanciulla esitò perplessa non riusciva a spiegarsi quello strano fenomeno a un tratto un turbine di vento la gettò per terra e la fece rotolare su uno spiazzo davanti ad una caverna su una grossa pietra vide un uomo coperto di peli neri come un orso con gli occhi maligni e gesti feroci che con voce minacciosa le urlò hai scoperto il segreto della mia sorgente non svelarlo ad anima viva se lo dirai e qualcuno verrà a prendere la mia acqua tu morirai io sono il padrone della montagna la mia vendetta sarà terribile un altro colpo di vento la fece rotolare giù dalla montagna chanfa mei indolenzita e piena di paura tornò a casa non disse nulla a sua madre e nemmeno agli altri abitanti del villaggio ma da quel momento non ebbe più pace vedeva i campi e gli orti secchi e aridi e vedeva con quanta fatica uomini e donne vecchi e bambini trasportavano l'acqua che andavano a prendere lontano se solo lei avesse avuto il coraggio di dire a qualcuno il segreto della sorgente tutte quelle sofferenze sarebbero cessate immediatamente bastava strappare via quella rapa tagliarla in mille pezzetti allargare il foro e ci sarebbe stata acqua in abbondanza per tutti ma lei ricordava la minaccia del padrone della montagna e aveva troppa paura per parlare per il pensiero cominciò a non mangiare più a starsene muta tutto il giorno e a non dormire di notte divenne pallida e smorta con gli occhi spenti e piano piano i lunghi e neri capelli divenivano bianchi sempre più bianchi sua madre le afferrava le mani fredde e le chiedeva figlia mia cosa ti è successo ma chanfa mei scuoteva la testa e non rispondeva passarono i giorni e passarono i mesi i suoi capelli erano ormai diventati tutti bianchi alle sue spalle gli abitanti del villaggio mormoravano che strano che una ragazza così giovane abbia tutti i capelli bianchi lei non diceva nulla dalla porta di casa guardava gli altri passare e bisbigliava sul monte c'è una non osava finire la frase e si mordeva le labbra fino a farle sanguinare un giorno vide passare un uomo molto anziano camminava a fatica portando sulle spalle un otre pieno d'acqua a un tratto quel vecchio inciampò cadde per terra e l'otre si aprì e versò tutta l'acqua l'uomo si era ferito una gamba e il sangue sgorgava copioso lei corse ad aiutarlo fermò il sangue della ferita con un pezzo della sua camicia e aiutò il vecchio a rialzarsi quello si lamentava per il dolore e per il dispiacere di aver perduto l'acqua allora chanfa mei ebbe un moto di ribellione che vile sono disse fra sé è a causa della mia paura che questi campi muoiono d'arsura e questi uomini hanno così tante tribolazioni adesso basta non ne poteva proprio più e disse al vecchio nonno c'è una sorgente sul monte se voi strappate via una rappa la fate a pezzi allargate il foro dove era piantata ci sarà acqua in abbondanza per tutti è vero l'ho visto con i miei occhi a quel punto non ebbe più paura corse per le case del villaggio gridando correte correte c'è una sorgente sul monte subito raccontò a tutti cosa le era accaduto quel giorno ormai lontano senza però dire nulla delle minacce del padrone della montagna gli abitanti del villaggio la conoscevano bene e le credettero subito presero zappe e picconi e corsero tutti dietro a chanfa mei su per il monte arrivati a mezza costa strapparono via dal terreno quella grossa rapa e la fecero in mille pezzi subito l'acqua cominciò a sgorgare fresca e limpida ma la sorgente era troppo piccola e così si misero tutti a togliere terra per allargarla quando fu grande come una tinozza l'acqua scorreva abbondante come un ruscello tutti ridevano contenti e si abbracciavano per la gioia proprio in quel momento un violento colpo di vento germì chanfa mei e la portò all'ingresso della caverna gli altri non fecero caso alla sparizione della fanciulla uno chiese distratto dov'è chanfa mei sarà andata a casa a dare la buona notizia a sua madre rispose un altro non ci pensarono più e allegri contenti tornarono al villaggio chanfa mei invece era alle prese con il padrone della montagna ti avevo avvertita di non dire nulla ad anima viva urlava il maligno mostro peloso ma tu hai portato qui tutta quella gente hanno fatto a pezzi la rapa e allargato il foro io ti ucciderò per quello che hai fatto chanfa mei rispose calma e tranquilla ora sono pronta anche a morire ma non ti lascerò morire semplicemente disse il mostro digrignando i denti dovrai stare distesa davanti alla sorgente e l'acqua del ruscello ti passerà addosso questa sarà la tua punizione accetto rispose chanfa mei sempre con voce serena ma prima lascia che vada a casa e cerchi qualcuno che si prenda cura di mia madre va bene puoi andare disse il mostro ma se non tornerai io tapperò di nuovo il buco e farò morire tutti gli abitanti del villaggio quando tornerai va tu stessa sulla costa del monte e stenditi sotto il torrente non mi disturbare più chanfa mei annui un colpo di vento la fece rotolare giù lontano dalla caverna quando la fanciulla vide il torrente scendere dal monte e bagnare con la sua acqua i campi sorrise di gioia e si avviò verso casa quando arrivò non ebbe il coraggio di dire la verità alla madre disse solo mamma adesso l'acqua viene giù in abbondanza dal monte non dobbiamo più preoccuparci poi aggiunse alcune ragazze del villaggio vicino mi hanno invitata ad andare da loro per qualche giorno ho chiesto alla vicina di badare a te va pure va pure divertiti disse sua madre con un sorriso la vicina è una buona donna vedrai che si prenderà cura di me chanfa mei strinse le mani della madre la baciò sulle guance mentre calde lacrime le scendevano copiose dagli occhi andò anche nel recinto degli animali accarezzò i più piccolini poi senza rientrare in casa gridò a sua madre mamma vado via e senza aspettare risposta si avviò verso la sorgente sulla montagna a mezza strada c'era un albero altissimo dal tronco enorme fitto di rami e di foglie chanfa mei si fermò un attimo toccò il tronco e mormorò amico albero d'ora in poi non potrò più riposarmi alla tua ombra da dietro il tronco rugoso sbucò un vecchio vestito di verde con capelli e barba verdi la guardò con occhi pieni di comprensione e disse so tutto quello che ti è capitato e anche la tua grande generosità ho trovato un sistema per salvarti la vita ho scolpito una statua di pietra che è l'esatta tua immagine guarda chanfa mei andò dietro l'albero e vide una statua con le sue stesse sembianze ma senza capelli metterò la statua sotto l'acqua al tuo posto però devo chiederti un sacrificio taglia i tuoi lunghi capelli e dammeli li metterò sulla testa della statua in modo che il padrone della montagna non abbia sospetti così fecero l'arzillo vecchietto si caricò sulle spalle la statua e la collocò proprio sotto la cascata d'acqua in quel momento un forte colpo di vento scosse i rami e le foglie dell'albero e una voce disse chanfa mei siamo riusciti ad ingannare il padrone della montagna puoi andare a casa adesso la ragazza si sentì invadere dalla gioia diede uno sguardo al torrente d'acqua che scendeva dal monte ai campi e agli orti già irrigati e alla gente del villaggio felice e contenta e si avviò verso casa